Oh ragazzi, pausa pranzo, ci abbiamo fatta, mi sono appena scaldato insomma la pasta avanzata di ieri, tanta roba e adesso mi godo un pochino la montagna Madonna santa, mi godo un corno Nelli, attaccalo! Ma porcaccio il cane, mi godo la montagna L'anelli che prova ad azzannarlo è uscito un pelo di sole quindi la Nelli e io dobbiamo andare a fare una piccola passeggiata assolutamente perché sennò non sfruttiamo a pieno questi unici momenti di gloria Niente, la Nelli si è incastrata lì e non sa come uscire Nelli, andiamo! Andiamo! Ok, siamo arrivati in paese continuiamo la passeggiatina appunto l'altro giorno c'è stata la sagra qua e devono ancora togliere io ragazzi ieri non ve l'ho fatto neanche vedere ma ci siamo fatti tutto questo pezzettino su questa scalinata molto alla rocchia anche perché è particolarmente pendente ogni scalino io non penso che la Nelli capirà mai questo senso di fare video dove affoggio la videocamera salgo su lascio la videocamera faccio finta che ci sia una persona lì a filmarmi continuo su dai Nelli su ehi che fai? lascio qua la Nelli ciao prendo la videocamera torno giù Nelli sei stanca? sei stanca? su 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 vai 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 ancora Nelli vai 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 non sono sicuro che i cani possano entrare e adesso il parco come avete visto ieri sera insomma l'ho anche fatto tutto nuovo anche perché io da bambino qua era un un pratone dimenticatevi questo era un unico prato con le buche delle talpe ovunque qualcuna se ne vede se ne vede ancora qualcuna mi sa sì 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 eccole lì però immaginate solo prato poi non so con quali fondi a chi hanno dovuto pestare i piedi ma il consiglio comunale è riuscito a prendersi un po' di fondini a tal punto da rinnovare tutto completamente e ricordate ragazzi se vi piace questo tipo di contenuti iscrivetevi al canale commentate attivate la campanella ma Nelli vai via lei ha paura che la abbandoni vuoi venire anche te Nelli seduta ok ragazzi basta basta che mi strapi i pantaloni della saleva vai via allora ragazzi se vi piace questo tipo di contenuti ricordatevi iscrivetevi al canale commentate commentate attivate la campanella e se vi piace questo tipo di contenuti ragazzi iscrivetevi al canale commentate attivate la campanella vediamo se mi raggiunge ma Nelli non mi devi mordere non mi devi mordere comunque ragazzi avere un cane è pericoloso cioè guardate qua che taglione che mi ha fatto e non voglio vedermi la schiena che vi mi ha proprio morso cioè lei va bene vuol giocare è bello il paese è bello tutto ma c'è neanche una fontanella tutte le fontanelle che ci sono sono spente chiuse non funzionano capisco in inverno che si tranciano i tubi ma d'estate ad agosto niente ragazzi andiamo a fare una piccola escursione visto che ho finito di lavorare e volevo un pochino insomma lì ti tiro sotto se stai lì adesso vediamo se riesco a uscire senza grattare allora ragazzi andiamo in paese ma quali paese adesso andiamo a farci una bella escursione che è uscito fuori il sole mi sono preso anche una birretta e andiamo a Novezza Novezza o Novezzina è una località proprio sul Monte Baldo che fa da crocevia tra il lato Veneto e il lato Trentino adesso ragazzi andiamo a visitare le trincee le vecchie trincee della prima guerra mondiale andiamo su ci sono i prati così l'anelli la posso lasciare libera e non stavo per dire non c'è troppo il pericolo di animali ma in verità tipo ho visto l'altro giorno un video che ci sono stati degli avvistamenti qua avvistamenti di lupi anzi neanche qua proprio a Caprino che è giù a valle quindi se sono a Caprino chissà qua sul Monte Baldo come siamo messi sarà pieno di lupi pieno di bestie ma noi abbiamo un cane ferocissimo che come potete vedere è pronto a tutto pronta ad azzannare qualsiasi tipo di pericolo pur di salvare il padrone o no Nelly ok ragazzi ci stiamo avvicinando pian piano alla cima questo è il panorama e siamo arrivati in un momento perfetto perché le nuvole se ne stanno andando vediamo come è il tempo mi sono portato la biaretta ma se è troppo freddo magari vado in una nella locanda qua nel bar mi prendo una birra lì o una cioccolata calda o qualcosa questa è una zona molto trafficata ai motociclisti e questo è uno dei motivi per cui ho deciso di farmi la patente della moto ma non ho la moto e quindi adesso non posso fare proprio un figo secco cioè ok va bene non vedo non vedo mucche però è pieno di pecore usciamo vai vai bene ragazzi siamo arrivati alle trincee come vedete ce ne sono un po' da questo lato ma poi proseguono lungo la montagna noi adesso proseguiamo poi questa strada per una mezz'oretta arriveremo nel punto dove vi ho portati l'altra volta sull'altissimo dove con Alex ci siamo fermati a mangiare a rifugio abbiamo fatto quella passeggiata leggermente disastrosa ok ragazzi adesso stiamo scendendo la situazione è estremamente comoda anzi comica posto perfetto se una persona vuole venire qua con gli amici a fare tipo safter o tiro con l'arco o robe del genere perché è incontaminato c'è un sacco di spazio è molto accessibile cioè alla fine parcheggiri la macchina ah e in tutto questo vedo non so se la Nelly l'ha visto comunque questo era il lato italiano quello era il lato austriaco là in fondo ci sono due persone che camminano con un pastore tedesco non legato e visto che la Nelly è stata ultimamente aggredita Nelly è stata aggredita da un cane molto grosso non vorrei che questo le facesse un po' di paura questo è un posto è particolarmente figo per varie ragioni la prima storicamente interessante la seconda se hai mezzo a natura ci puoi fare attività fuoche campeggio e quant'altro la terza è che qua d'inverno questo è tutto il nevato e quindi qua arrivi con un metro di neve quando sono venuto con gli amici ci siamo mossi col bob con la slitta con la slitta no era vabbè quelli che metti sotto le chiappe per scivolare ed è bello perché finisci ci sono anche delle gallerie delle trincee dove entri da una parte e sbuchi dall'altra magari adesso che trovo un punto interessante ve lo faccio anche vedere speriamo di non beccare animali strani soprattutto affamati di cagnolini la Nelly ci sta accompagnando al piccolo avamposto che era una zona di riparo di rifugio all'epoca come penso ci sia scritto anche qua ecco si c'è scritto anche rudere della cucina da campo in particolare appunto quattro fuochi io che faccio fare questa attività alle Nelly perché se no in casa mentre io lavoro lei si annoia e sì le faccio fare passeggiatine quando posso non si sta mai fermo un secondo però decisamente questa è una cosa che lei apprezza sicuramente molto di più rispetto che dicevo questa è un'attività che sicuramente apprezza molto di più rispetto che stare in casa può andare semplicemente al parco legata almeno qua c'è un po' di natura può annusare ecco ragazzi mentre che questa è una trincea vera e propria dai Nelly vai giù vabbè vado io quindi da qua ci sono queste piccole gallerie che comunque per i più appassionati del mio canale per i fans si ricorderanno che qua ho fatto una ripresa con la mia amica di letta Begali io avevo la 7s2 col 24 mm 1.4 e ho fatto una ripresa mi pare tipo così vabbè ragazzi andiamo via che l'anelli ci guarda male su andiamo qua e anche qua avevo fatto una ripresa ragazzi è arrivato il momento della birretta la ci sono tutte le pecore e voglio godermi un pochino questo momento sperando di trovare le chiavi per aprire dai Nelly vieni qua festeggiamo insieme dai bacino dammi un bacino Nelly brava non vi ho fatto neanche vedere ma sono riuscito a mettermi i cerotti prima mentre ve lo dico uno si è staccato ragazzi a volte basta veramente poco per essere felici quello che mi rende felice a me è la tranquillità la natura la montagna e avere la possibilità di di viversela cioè non è da dare per scontato prometti che nasci in un altro contesto in una città dove non c'è la possibilità di muoversi la possibilità di poter lavorare da remoto in un posto così è una alza la qualità della vita in maniera esponenziale per quanto mi riguarda quando vivevo in Olanda sì potevo fare remoto bene o male quando volevo ma non è la stessa cosa perché sì uscivo ero ad Amsterdam e ok bello ma no non è la stessa cosa e Dio che se ne voglia Amsterdam è una bellissima città bellissima città quello che piace a me il fatto che sia internazionale che si parla inglese e che io mi senta valorizzato che paghino tanto tutte bellissime cose ma quello che mi mancava era la serenità della mantù della montagna della natura dei paesaggi cioè guardate che roba oh ragazzi io ve lo posso garantire cioè Kerbassi io ve lo giuro su Dio sono appena tornato a prendere la videocamera perché con l'anelli mi sono messo lì sopra a fare gli stupidi e lì nel bosco abbiamo beccato un animale grosso da come si muoveva secondo me era o un cervo o un dino qualcosa o un capriolo no un po' più grande il capriolo secondo me qualcosa era e andando lì ho trovato una una trinciara più grande che abbiamo visto qua in zona esattamente qua sotto c'è tipo un tunnel che va sotto e spunta dall'altra parte quindi adesso il mio obiettivo trovarne altri allora ragazzi il piano ora è seguire un pochino questi sentierini che si vedono alla ricerca di altre trincee perché qua io non dico cazzate qua ne ho trovata una e in tutto questo quando sono uscito mi sono trovato l'anelli qua appollaiata e mi ha leggermente spaventato che da qua si entra cioè io da qua sono uscito prima però si entra dall'altro lato lì è un ingresso e lì è quell'altro e adesso noi andiamo a cercare altre trincee perché io questa qua non l'avevo mai vista 28 anni mai notata cosa sta qua magari trovare qualcosa di vecchio molto vecchio questo molto vecchio anche a giudicare da quando sono sprofondate le gomme ne lì adesso andiamo via che qua ci sono serpenti e altre bestie su andiamo via quanti escrementi ci sono cioè questo è letteralmente un campo solo dove vengono qua è il loro bagno essenzialmente è il loro bagno sempre nel video che ho fatto con Diletta Begali noi eravamo venuti qua ma come vedete ora hanno chiuso tutto qua hanno appena chiuso tutto noi siamo entrati da quella finestra là in fondo ecco adesso entreremo nella grotta che vi dicevo che è leggermente più grande forse come volume è la medesima solo che questa è più amplia ecco qua ragazzi qua ci addentriamo porca miseria quante regnatele guardate il regnazzo di schifoso ok ci addentriamo ma non troppo ok ce l'abbiamo fatta adesso do da mangiare all'anelli anzi da bere poverina vediamo un po' a bere a lei dai bevi 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 che ti fa bene tanto bevi quella che so che tu la sprechi se no allora non so se mi avete visto ma dicevo che qua lì c'erano impianti scistici sia lì che più a valle che dietro di voi dove c'erano prima le pecore e ovviamente col tempo hanno abbandonato un pochino questo questo trend il baldo è diventato meno turistico diciamo una volta c'erano piste skillift e quant'altro adesso in fondo là c'è una quella lì che vedete appunto lì è tipo per slittini ma non penso no non mi pare ci sia neanche lo skillift tra di la verità